Quando il mondo immagina l'Italia, non immagina l'attualità o la politica, immagina la cultura italiana. Per questo faccio un appello per salvare il Maggio Fiorentino. Il Maggio Fiorentino è una delle realtà produttive che identificano la nostra nazione, una delle più prestigiose e antiche d'Italia. Vorrei sentire la voce della politica e della società civile, che lo sostengono non perché si deve, ma con passione ed amore, credendo che in realtà la cultura è la risorsa più nobile e più ricca di cui dispone l'Italia per uscire da uno stato di crisi, per cui rinunciare al Maggio significa rinunciare alla speranza. Forza!